Mi voglio donare e talent doniamoci. Sono i due concorsi regionali per le scuole promossi dal centro regionale Trapianti e Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con le associazioni Aido, Anne, Davanti Tutta e Abis, che sono stati presentati questa mattina in una conferenza a stampa. I due concorsi rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e agli studenti universitari sono stati pensati come stimolo di confronto e di elaborazione del concetto civile del volontariato e della donazione e rientrano nel progetto evento Doniamoci, che si svolgerà l'8 e 9 maggio 2020, che ha come obiettivo la promozione della cultura del dono, soprattutto tra le nuove generazioni.